Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web Pupazzi dalle gare, la cronaca nera non è mai stata così immorale E benvenuti nello special di quest'anno di Pupazzi dalle gare Che è speciale, è una specialità A disgrazia in goppa tragedia No, è diversa dalla special che abbiamo fatto l'anno scorso Perché l'anno scorso era il nostro anniversario Il primo anno di Pupazzi dalle gare, abbiamo fatto una live Quest'anno è il binniversario e rispondiamo alle domande che ci hanno fatto i nostri ascoltatori Prima di continuare però vi voglio dire una cosa altrettanto carina Perché contemporaneamente, no contemporaneamente, domani Quindi martedì No aspetta Martedì 20 aprile esce l'episodio su Cervelli su tela Che è anche quello se vogliamo uno special All'insieme a Chiara Becchimanzi e Giorgia Conte-Dudka Conte-Dududka Dudududka Dududududada Con Giorgia Conte-Duca Del podcast A Ciascuno è il suo Dove parliamo di sesso e di quanto è bello farlo E di quante cose in realtà non sappiamo delle donne e non sappiamo degli uomini E adesso hanno bisogno veramente molto Ma tu lo sapete che le donne hanno la vagina? Marca mi sapevo che questa cosa mi ha sconvolto Ok Va bene Possiamo continuare con questo special E che cosa perché? Giustamente diciamolo Perché doppio special? Perché è un binniversario Devi dirla sta parola Vabbè non è un doppio special L'altro è semplicemente un episodio di Cervelli Però molto bello Devi stare zitto Forse è il migliore E così offendo tutti gli altri con cui abbiamo collaborato fino adesso È il migliore Capito? E in questo altro special invece di che parliamo? L'ho già detto Rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori Ma lo so ma tu non mi ascolti mai Sì domande che ci hanno fatto per strada No domande che abbiamo chiesto noi Se non ci avete fatto la domanda peggio per voi Magari che ne so Potremmo fare per la prossima volta Vorrei iniziare con la domanda più filosofica Più importante Anche forse più difficile da rispondere Ok Che ci è stata fatta da Michele Ok Voi Pachino nell'orata all'acqua calda ce li mettete? Allora io Che cazzo è l'orata all'acqua calda? Allora io l'acqua calda A parte No io non so cosa sia l'orata all'acqua calda Però conosco il baccalà all'acqua cotta E in quel caso sì Ci metto i Pachino Ok Però non è né acqua calda né orata È o baccalà Ok Va bene Quindi Quindi no Michele Ed è importante questa cosa Forse la sua era una domanda trabocchetto No Ci voleva mettere in difficoltà Bravo Michele Bravo Quando e dove vi siete conosciuti? Cosa vi ha fatto legare come amici o amanti? Allora Ci siamo conosciuti una quindicina d'anni fa Eravamo ragazzini e praticamente Anche abbondanti ormai Ti ricordo che hai superato i 30 Ok quindi parliamo anche di 18 anni fa Una maggiorenza fa Esatto una maggioranza fa Una maggiorana Una maggioranza fa E mi ricordo che Stefano la prima volta che l'ho visto Stava facendo il filtro per una canna Ok io non me lo ricordo questa visata Anzi che non stavo dando poco le cose Lo stiamo negando Lo stiamo negando Assolutamente no Cosa ci ha fatto legare? Niente In realtà ci odiamo Erammo costretti ad uscire nello stesso posto Per amicizia in comune Esatto praticamente noi facevamo parte Di una mega comitiva Ma era enorme Stavamo dietro la stazia Noi eravamo la comitiva della stazione Esatto E non c'era spazio per parcheggiare i motorini Esatto A un certo punto Esatto ci mandavano sempre le guardie Ci tiravano le ova E poi c'erano le fazioni Capito? Ah perché lì c'erano metallari Perché c'era un gruppo di metallari Poi c'era che io Io ero nel gruppo dei metallari Poi c'era un gruppo di punk Però noi punk a bestia Un gruppo di Non manco dei punk Un gruppo dei pop Un gruppo pop Punk Un po' punk Un po' punk E poi Basta Ma questo è Poi che cosa ci ha fatto legare? Niente L'amore per i soldi L'amore per il deal danaro E per il deal danaro No in realtà Legamo per andare a comprare i 5 grammi Ok ok Vai alla prossima domanda Ti prego Andiamo alla prossima domanda Alessandro Alessandro ci chiede Come avete scoperto di essere pelati? Ecco Purtroppo Posso rispondere io Perché Mario ha perso i capelli prima E io sapevo Perché mio padre Che Mario avrebbe perso i capelli prima E io per quanto mi riguarda Lo sapevo che L'andazzo La mia strada Sarebbe stata quella Perché tutti i miei parenti Sono pelati Quindi lo sapevo Che prima o poi L'avrei perso anch'io E gli dicevo sempre Ah pelato di merda Fatti prendervi il culo Adesso che ancora posso Con i capelli Perché prima o poi Li perderò pure io E inevitabilmente 4-5 anni dopo infatti Tra l'altro io avevo Una chioma lunghissima E forse è proprio per quello Che sei diventato pelato No allora Sempre una questione genetica Però a quanto ho capito Negli anni Viene dalla madre Cioè il gene Il gene Non so se funziona proprio così Però tu prendi i capelli Per colpa della mamma E non del papà Ma nel senso Per colpa sua Perché ti odia Ti fa le macumbe Perché la notte Ti viene a mettere l'acido In testa Con le pinzette Deli strappa Uno per uno Ok Quindi no ti vuole bene Mammina insomma Di chi avreste Voluto essere figli Di Marlon Brando Marlon Brando Era un pessimo padre Però sono convinto che Che con me sarebbe stato diverso Che con me sarebbe stato diverso Sì di Marlon Brando E di Se vogliamo prendere una donna Barbara D'Urso Ok I miei genitori Marlon Brando E Barbara Io La butto là Un briatore Un briacone Un briacone No dai Un tizio così A buffo Ok O un Olivetti Un Ferrari Ah tu perché vuoi essere figlio di papà Figlio di papà Però sarei stato molto stupido Secondo me Se fossi Cambierebbe poco C'errebbe cambiato poco Comunque sì No qualcuno Però ecco magari Ecco Hai detto una cosa interessante Che cavolo è Un figlio di Di buttana Che ne so No veramente Qualcuno che è diventato ricco Però dopo Che quindi nasci povero Stavo vedendo C'era un grafico Tipo di La gente quando si Ok ce l'ho Warren Buffett Vuoi essere figlio di Warren Buffett Figlio di Warren Buffett Sì Ok Così non sarei manco diventato stupido Ok No però saresti diventato psicopatico Tipo schizofrenico Dici Sì Perché avresti cercato amore di tuo padre Che non ti avrebbe mai dato Vabbè mi avrebbe dato amore in soldi Ma benissimo comunque Prossima domanda Domanda seria Carolina Carolina Quando è come avete cominciato Ad appassionarvi A serial killer E alla cronaca nera In realtà Vi dobbiamo dire un segreto A noi Dei serial killer Non ce ne frega proprio un cazzo Cioè È solo una scusa Per di cazzate Non è che abbiamo Una passione La nostra Allora La nostra passione È dire Cacciate su argomenti Un po' spinosi Esatto Su cose Esatto Il brividino Della cosa Che non andrebbe detta Però devo aggiungere Anche un'altra cosa Che effettivamente Se prima non c'era Una passione per il serial killer Questa un po' Leggermente è nata Facendo Questo tipo di lavoro Quindi effettivamente Una risposta a questa domanda C'è Lei ci chiede Quando e come Avete cominciato ad appassionarvi Abbiamo cominciato ad appassionarci Con il podcast Facendo il podcast Piano piano Studiando questi argomenti Perché poi alla fine Vuoi o non vuoi Te li devi studiare Te li devi andare a cercare In effetti Sono cose interessanti Perché vai ad addentrarti Nei meandri più bui Della psico-umana Infatti Se prima io per esempio Non guardavo documentari Netflix sui serial killer Adesso appena ne esce uno Ma vado subito a vedere Cioè Veramente Ce l'ho questa cosa E poi c'è Un'altra domanda Ancora più seria Come fate la carbonara Allora La ricetta della carbonara Tra l'altro l'abbiamo fatta ieri a pranzo L'ho fatta io La ricetta della carbonara classica È questa Prima cosa Si mette l'acqua a bollire Seconda cosa Il guanciale va rosolato A fuoco lento In modo tale che perda tutto il suo grasso Senza niente Senza olio Senza cipolla Senza niente Senza niente Grasso del guanciale Niente di niente Poi a parte viene fatto l'uovo Che a seconda della scuola di pensiero Alcuni mettono l'uovo intero Alcuni fanno metà e metà Alcuni invece mettono solamente la parte rossa Io personalmente preferisco mettere solamente la parte rossa E va fatto un uovo a persona Quindi un uovo a commensale Un uovo alla quantità di persone che mangiano E un cucchiaio di pecorino Solo pecorino Prettamente romano Sempre a commensale Giustato con un po' di sale e di pepe Io la carbonara non la faccio Ok Io la carbonara non la faccio Perché a me piace la matriciana Perfetto Dopodiché Gli spaghetti li scolate direttamente Nella pentola dove c'è il guanciale Con tutto il grasso Mantecate con un po' di acqua di cottura L'acqua di cottura L'aggiungete pure all'uovo Spengete il fuoco Aspettate che la pasta si freddi un po' Perché poi quando aggiungete l'uovo Rischiate di fare una frittata Come mi è successo a me ieri Una volta che avete amalgamato E calla Mangateva la carbonara di Roma Che state buona di sempre E si è muti Questa è la ricetta classica della carbonara Poi fatela come cazzo vi pare A chi ci mette un po' di pancetta A me c'è chi ci mette la cipolla Ma metteci quello che ti pare Ti piace? Va bene Ti ci piace la panna Ti ci piace il vius Il ketchup Fai come cazzo ti pare Cioè veramente regà E sta storia che il romano Se vede la carbonara È vera Il cubetto d'anno Il cubetto d'anno È una carbonara A morte sua Va bene Lucia Lucia Avete sempre avuto interesse Per i casi di crimine Oppure come me Vi siete interessate A serial killer Per prendere spunto In che senso? Lucia Prendi spunto In che senso? Perché prendi spunto? No perché Abbiamo già risposto Alla domanda di Carolina Penso anche In maniera Cioè Anche alla tua domanda Quindi abbiamo risposto A questo Ma è il discorso Del prendere spunto Cioè Tu odi particolarmente qualcuno Non sai come vendicarti E Prendi spunto Da un serial killer Prendi spunto Da un serial killer Può essere Forse sarà quello Può essere una cosa Può essere una cosa Tu come prendi spunto Per le tue vendette Non lo so Io passo alla prossima domanda Perché non voglio dirlo Allora La vostra famiglia Vice animali domestici Cosa ne pensano Del vostro lavoro? E perdete capelli Idiotrie Ah ecco Idiotrie Per empatia Per empatia Con l'altro Allora Non c'è empatia Noi ci odiamo Noi ci odiamo Noi non ci sopportiamo Siamo semplicemente Dei bravissimi attori E quando parliamo Sembriamo affietati Ma in realtà No 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 Professionisti Cioè noi abbiamo studiato All'accademia Tutto quello che noi abbiamo detto Nelle interviste Che abbiamo fatto Con altre persone Sono tutte cazzate Sì 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 Pure alla domanda di prima Mi ho risposto come una cazzata Che noi conosciamo da 15 anni Ne è vero Esatto In realtà io Per esempio sono nero Questa cosa Non la sa nessuno Io ho una folta Chioma capella Chioma capella Chioma capella In realtà io sono nero E Stefano è ebreo ragazzi Questa cosa Non la sa nessuno La diciamo solamente qui Esatto E non ditelo a nessuno Per favore Sennò perdiamo la faccia E comunque i nostri familiari Ecco una volta mia madre Si è offesa Perché in una puntata Scherzando Ho detto che Mia madre è una serial killer Non mi ha parlato Per una settimana Meditando su come vendicarsi Meditando su come vendicarsi E lì ho avuto anche un po' di paura Stiamo parlando della stessa madre Che ti strappa i capelli Quando ti insette Perché dormi Esatto Che madre di merda Scusa Stiamo riscrivendo mia madre Come un mostro In realtà mia madre È la persona più bella del mondo E ogni bella È bella O figlio solito Non dico esteticamente Per carità Sarà bellissima Però ti strappavi i capelli Ok Va bene I miei che cosa ne pensano A parte che Verrò licenziato a breve Quindi Questo è un altro discorso Andiamo avanti Giulia Domanda banale Come avete fatti i pupazzi Con le mani Li avete fatti voi Letteralmente concepiti Nel senso Tramite Della procreazione Questo l'ho aggiunto io O li avete fatti fare Da qualcun altro Per voi Allora no Li abbiamo fatti noi Abbiamo trovato Stefano ha trovato Un tutorial su youtube Per fare questi mappet E ci siamo messi là Abbiamo fatto Li abbiamo fatti noi Abbiamo fatto prima Entriamo un po' più nel dettaglio Abbiamo preso la creta E abbiamo fatto Lo stampino Fondamentalmente la forma Abbiamo creato Questo pupazzo di creta Quindi l'uovo A bocca aperta In scala 2 a 1 Sì grosso quanto Un paio di pugni Diciamo 1 a 2 No 2 a 1 In scala 1 a 2 E poi l'abbiamo avvolto Metà con del nastro adesivo Creando questa patina Che poi abbiamo aperto E schiacciato Non so se si rende l'idea Però insomma Abbiamo creato Il 2D di mezza faccia Esatto Che poi abbiamo ingrandito Ci abbiamo ritagliato La gomma piuma E abbiamo fatto Le due metà Che poi abbiamo incollato Secondo me Non avete capito un cazzo Va bene questo non è stato Però c'è un tutorial Su Youtube Di un tipo Che ve lo fa vedere Come si fa Noi l'abbiamo fatto Anzi perché non fate Il vostro pupazzo Tanto state in lockdown Fate il vostro pupazzo E mandateci un video Una foto Sarebbe fichissima Perché ci vanno solo Due giornate di lavoro Sì noi ci abbiamo messo Una vita per farlo Però dopo c'è Una certa soddisfazione Ci sono avanzati Anche due metri quadrati Però sapete che è bello Se voi lo fate Poi facciamo tutti i video Con voi che state Chissà dove Diventate dei veri pupazzi Da legare Sarebbe regà Sarebbe una gioia immensa Sarebbe veramente Una soddisfazione Facciamo la gioia infinita Se su cioè Ci fosse stato un test Scopri quale serial killer sei Quale pensate sarebbe Il vostro spirito omicida Più affine Tra quelli di cui avete parlato Io Il mio spirito omicida È più verso Simone Pianetti Cioè il fatto di dover Sbroccare un giorno Perché non ce la faccio più Di questa vita di merda Prendo il fucile E ammazzo le persone Tipo una ventina In un giorno solo Però Lo sai che ti devo dire Che mi piacerebbe Darne un altro Di diverso Di serial killer Però Sono tutti matti Vabbè ma ce n'è uno Per la quale Un po' Ti immedesimi Sono tutti scemi Gli unici con cui Mi posso immedesimar Sono quelli Con il desiderio di vendetta Tipo ad esempio Lui e chi era? La Quaglini? Lui e Milena Quaglini Lui e la Quaglini Sono quelli che Una persona un po' Più sana Io penso che se vai a dire Un Ted Bundy Un Itzo Ma anche quei due scemi De Ludwig O Qualsiasi altro serial killer Ed Kemper Sono tutti Fori con l'accuso Ma come fai a immedesimatte In qualcuno di loro? Invece questi altri Ci hanno un movente Un po' più razionale Un po' più razionale Che poi hanno esagerato Nei modi E tutto quanto Ma un minimo Con loro ci puoi empatizzare Questo è vero Questo è buero Quindi è buero È buero È buero Quindi sì Purtroppo devo Mio malgrado Devo condividere La stessa risposta Di Mario Cosa volevate fare Da grandi Quando eravate piccoli? Il barbone Ma sai Non credo di aver mai avuto Un sogno Allora Da piccolo Da piccolo Stavo in fissa Con le astronavi Quindi forse Pensa Volevo fare l'astronauta Non credo In realtà Io forse ho avuto Una benessima Forse non avevo un sogno Forse ho avuto Una brevissima parentesi Da archeologo Avrei voluto Avere un sogno Il mio sogno Avere un sogno No forse Una brevissima parentesi Da archeologo Ma penso Più che altro Perché era il periodo Dove c'era Superquark Che parlava di dinosauri E c'erano i vari Indiana Jones E roba del genere E quindi questo desiderio Un po' Di andare a scoprire Le cose Poi mi sono rosa conto Che chi se ne frega Sì capito Forse La nostra generazione Ha questo di problema Che fondamentalmente A noi Ce ne frega un cazzo Cioè non credo Che siamo nati Con delle abizioni O cresciuti Con dei sogni Delle cose Noi siamo nati E cresciuti Sapendo che Qualsiasi sogno Sarebbe stato infranto Sarebbe stato inutile Portarlo avanti Quindi alla fine Ci siamo Semplicemente Abbiamo fatto come i bulli Visto che tanto Non potremmo raggiungere mai Un determinato tipo Di obiettivo Tanto vale Prendere per il culo Gli altri E chi ci riesce Fondamentalmente Eh sì Eh sì Quindi sì Vuoi leggere la domanda Di Riccardo Quale insulto Preferite E che categoria Ma giustamente Che mi hai cambiato Ma hai mai levato la schermata E che categoria Preferite insultare Allora Il mio insulto preferito è Se parcheggi come scopi È giusto che c'hai le corna Che potrebbe essere anche Girato a Se guidi come scopi È giusto che c'hai le corna Perché a Roma Se mi andiamo a fanculo Noi che guidiamo In mezzo alle strade Eccetera Quindi se le dimote Tutti i colori Però Un conto è che mi dici Tassi tua E qua E là Che insomma È anche un po' scurrile Un conto è che invece Mi dici una cosa costruita E fatta bene Carina Che mi fa Fa pure una risata Ma mi fa pure pensare Che forse guido una merda Quindi Se scopi come parcheggi È giusto che c'hai le corna Io non sono un fan Degli insulti lunghi Ah e la categoria Ovviamente sono Quelli che guidano Insomma Quando sei pedone Quando guidi I pedoni Esatto Perché Sono tutti stronzi Solamente gli altri però Esatto Sono tutti stronzi Tranne me Bravo L'insulto No gli insulti lunghi Non mi piacciono Mi piace dire Deficiente Con la cisbia scicata romana Ah deficiente Lo sento molto Perché non è troppo volgare Guarda come deficie Guardalo Ma in cosa deficie Capito Che non è molto volgare Però è abbastanza Non so Lo sento mio Ok La categoria Lo devo dire proprio Sì Ma nel senso La categoria Che ti piace Di più insultare Mi piace Le donne I negri I giudei I ginesi Forse gli indiani Gli indiani Gli indiani Che hanno quel colorito Che sembra Secondo me Quelli Se solo se la fassero Sarebbero pianti Questo è veramente Guarda La legge Mancino Ormai ci farà pagare Delle multe Sì sì Tantissimo Tantissimo Vabbè ma tanto Chi se ne frega Non penso che abbiamo Ascoltatori indiani Oh se ci sono Ascoltatori indiani Fatecelo sapere Lasciateci una recensione Dateci un'email Appunto a denuncia Ci chiacciola Barsi dalle gare Punto net Allora Che tipo di serial killer Sareste L'abbiamo già detto No questo è che tipo È diversa la cosa Paolo Rendina Ci chiede Che tipo di serial killer Sareste Non è un serial killer Ma tipo Ti piace mangiare Sei un necrofilo Sei un Necrofago Non sono nulla Di tutto questo Cioè nel senso Non ti piacciono i necri? No 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 non mi piacciono No nel senso Sinceramente Non credo Di voler Essere Nessun tipo Di serial killer Allora io ho sempre Pensato una cosa Tornando al discorso Della vendetta Tu immagina Di provare Un odio profondo Nei confronti Di una persona Sì ma vorrei umiliarti Per chi ucciderti Infatti Stavo in parte Arrivando a quello Ah ok Immagina di provare Del rancore estremo Nei confronti di una persona Che ti ha fatto patire Le pene dell'inferno Ti ha fatto i peggiori Sfregge E tutto quanto Ma se io prendo E ti ammazzo Ma a me non mi soddisferebbe Una cosa del genere Esatto Ti sparo alla tempia Bam sei morto Manco te ne sei accorto Io te voglio far soffrire prima Sì vabbè aspetta Io sarei un torturatore No no Io sarei un torturatore Se dovessi mai Arrivare al punto Che qualcuno Me fa incazzare Fino a farmi svarvolare Arrivare proprio A sfondare Le porte dell'etica Della morale Della legalità Io a quel punto Sarei un torturatore Tu sai che se vivevamo Negli Stati Uniti Eri già sotto gli occhi Della FBI In questo momento Ciao ragazzi No no Dunque io Ma neanche Nel senso Ma per umiliare Proprio deve essere Un limite massimo Ma per umiliare Forse verbalmente Ma neanche No però Mario Devi interpretare la domanda Non è quello che faresti Che tipo di serial killer Cioè devo scegliere per forza Un tipo di serial killer Partiamo dal presupposto Che te per un motivo O per un altro A un certo punto Diventi un serial killer A quel punto Una volta che lo sei Dato per assodato Che tu lo sia Che tipo saresti? Allora visto che Stiamo parlando Io non sono un torturatore Cazzo Parliamo in un mondo Dell'assurdo Allora Allora Ok Ho la risposta A questa domanda Visto che ho Diciamo tra virgolette Un'intelligenza culinaria Ok E Sono sempre stato curioso Di assaggiare la carne umana Forse le mangerei Le persone Necrofago Forse le mangerei Ma Proprio Cioè Se proprio Devo decidere Potremmo fare anche coppia Da quel punto di vista Perché li potremmo mangiare Quando sono ancora vivi E tu tagli in pezzo Io lo riuscivo Hai capito E poi Anche violenza psicologica Li costringiamo a mangiare con noi Si devono anche automangiare Pistola Veleno Coltello Quali di questi usereste Il vostro vicino di casa Coltello Coltello Usereste sul vostro vicino di casa Ah Non c'è il sul Le diottrie di prima Dovevi scrivere il sul Non lo so Io ho fatto copia ancora E Paolo Che nonostante avvocato Scrive male Allora Pistola Veleno Coltello Quali sono Quali usereste Contro il vostro vicino di casa Il primo vicino di casa In realtà mi sta Simpatico Io non saluto nessuno Tu non saluti nessuno Quindi sempre nel proprio Se devo Usare una cosa Il veleno Il veleno Il veleno Il veleno Molto femminile O forse il gas Non è fra le opzioni Ah non è fra le opzioni No beh beh Immagino che siano solo esempi Qual è lo scrittore horror Di Gialli preferito Io ho i coltelli Mi fai rispondere anche a me Un pezzo di merda Hai detto veleno No Hai detto veleno No Avevo detto coltello Però era persa così La cosa Menomale che abbiamo registrato Cazzo adesso interrompo tutto Te lo faccio sentire Io ho una passione per i coltelli Ne ho tantissimi Mi piacciono le lame Mi piacciono le lame Mi piacciono le lame E quindi sì Userei i coltelli Useresti i coltelli Arme da taglio Arme Arme E poi vorrei anche una katana Quindi anch'io lo sai Ma sapete che le katane Sono difficilissimi da costruire Praticamente è una lastra di metallo Che viene piecata e ripiegata Tipo centinaia Non lo sappiano tutti No Non vabbè Non darlo per scontato Io sconto tutto Ok Quale scrittore di horror Di gialli preferite? Allora Stefano non legge Libri horror e gialli Io non leggo romanzi In generale Io vado più per la saggistica Però in realtà L'altro giorno Stavamo anche discutendo Su questa cosa Mi hai dato uno spunto Perché effettivamente Uno scrittore di horror L'ho letto Però non ho letto Un suo romanzo Ma hai letto Un suo libro Perché io Dice Un suo libro Di formazione Hai letto Stephen King Lo conoscono tutti E ha scritto anche un libro Che non è un romanzo È un po' una sua Autobiografia Dove parla Di come scrivere Parla del mestiere Dello scrittore Parla un po' di se stesso Della sua vita E io ho letto quel libro Di Stephen King Però Ed era tra l'altro Un librone Perché stiamo parlando Comunque di Stephen King Quindi ha un'ironia fantastica Scrive in una maniera Scorrevolissima Piacevolissima E tutto quanto Quindi è stato un libro Veramente molto piacevole Che tra l'altro Si chiama On Writing Se vi dovesse interessare L'argomento Consigliatissimo E però Non è il mio scrittore Horror preferito È un Bravissimo scrittore Ok quindi Così Allora Dunque Anch'io Sinceramente Non sono molto Leggo romanzi Ho letto anche qualche giallo Di Agatha Christie Per esempio Ma anche La Rowling La scrittrice di Harry Potter Ha scritto Alcuni libri Sotto uno pseudonimo Che adesso non mi ricordo Molti gialli Insomma E anche quelli Da quelli là Che furono un flop totale Finchè non è uscito fuori Finchè non è uscito fuori Che era lei Sì di questo Ispettore Zoppicante Tra l'altro Pensa Un libro Mi l'aveva regalato Ciacco Un nostro amico in comune Però ecco Non è che sono Tra i miei preferiti A me piacciono molto I libri Libri biografici E Horror Ho letto Pochissima Roba in realtà I piccoli brividi Leggevo da bambino Sì anch'io Però sinceramente Non è che mi abbiano mai fatto Impazziti I piccoli brividi No erano libri del merda Sì nel senso A parte facevano anche le serie tv Comunque Anch'io posso dire Stephen King Ho letto It De Stephen King Bellissimo Ne ho letto anche un altro Però non era lui Era Oddio Come si chiamava Io leggo i libri Poi non mi ricordo i titoli Non mi ricordo Che cacchio li ha scritti Però insomma Non ho Dei Dei scrittori preferiti Ho dei libri preferiti Devo dire Cioè It mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto Il Lamento del Prefuzio Che ho letto da poco Bellissimo Un libro comico Ma che cazzo c'è Tra con l'orrore giallo Mi piacciono Gli Sherlock Holmes Tipo Il Mastino dei Baskerville Quello è un libro Che io ho apprezzato Moltissimo Molto bello Io dovrei abbandonare La saggistica Se no poi Non ho argomenti Di conversazione Sui romanzi E poi Non so Non saprei Ho letto Molti Anch'io Comunque ho letto Alcuni libri Di saggistica O di formazione Come Stefano Quindi no Sinceramente Non ho degli scrittori preferiti Mi dispiace Eh niente Io basta Concludiamo E se ci sono Sono molto banali A dire la verità Quindi mi dispiace Deludervi Con questa cosa Ok Esiste un argomento Col quale Non fareste mai Black humor Non rispondete Ideologicamente Ma personalmente E questa è la domanda Di Diego Allora Fino a poco tempo fa Ti avrei detto Si ci sono degli argomenti Dove non scherzerei mai Ma stiamo talmente Andando verso Un politica di corretta Così veramente schifoso Che sinceramente Oggi ti posso dire Sai che c'è No Io scherzerei su tutto Anche sui bambini Ormai non me ne frega niente Per esempio C'è questa barzetta Di Ricky Gervis No Ricky Gervis Fa questo spettacolo Dove lui Testa sempre La cattiveria Delle persone E parte Con questa barzetta Chiedendo Perché una bambina Cade dall'altalena Perché non l'ha le braccia Che hai raccontato In maniera impeccabile Guarda Uguale uguale Come lui Non c'è pubblico Quindi è inutile Poi continua Con un'altra cosa Che non potendomi vedere Non potete capire Non potreste capirne Il significato Quindi No Sinceramente Io non ho argomenti Con cui non scherzerei Ma diciamo che Su tutti i campi Dello scibile umano Forse ce n'è Ce n'è uno solo Su cui mi sento Un pochino a disagio Forse è la pedofilia Però dipende Anche dal momento Dal genere di battuta Dalle persone Con cui sto parlando Mi è capitato Magari di fare battute Su queste cose Però ripeto Dipende dal momento Dovendo scegliere Un argomento Quello su cui Forse sarei un po' Più a disagio Tipo Penso ve ne siate anche accorti Finora in podcast Cose di questo tipo Sì rarissimo Evitate Esatto Poi Matteo Scotch Nastro adesivo Whisky O bondage Bondage Riguardo cosa Domanda Allora Guarda se devo scegliere Tra questi Whisky O scotch Dipende che intendi Whisky scozzese O scotch Inteso come Nastro adesivo Perché infatti Nastro adesivo Scotch È ambivo Scotch è ambivo Sì Deve essere scotch scotch O scotch scotch Allora No vabbè Scotch è tutta la vita Se intendi la bevanda Il bondage Il bondage Non è che ci abbia mai avuto Tutta questa passione Per i legamenti Per le cose Per i legamenti No Ho delle Ho costruito Mi sono Io Io sono talmente Tanto schifo Dei legamenti Che ho messo Delle lastre di ferro Nelle mie ginocchia Per non piegarle mai Quindi sei un Tronco Mario dovete Perché voi non l'avete mai visto Ma Mario in realtà Sta sempre alla 4 di bastoni Sta fermo Sono nero E paralizzato È tetraplegico Anzi pentaplegico Pure la testa Gamba in spalla No Ho delle manette fatte di corda Perché ho un po' Una passione per i nodi E quindi ho scoperto Questo nodo Per fare Il fetish No Il fetish Ne abbiamo già discusso Nella puntata Con Chiara Chiara Becchimanzi E Giorgia Giorgia Non risponderò A questa domanda Ascoltatevi quell'altra Se vi interessa Ok È che I nodi sono fighi Mi piacciono i nodi Ma non a livello sessuale Però ho fatto queste manette di corda Che mi è capitato anche Quindi sei autistico Che cazzo c'entra? E ti piacciono i nodi Non lo so Mi danno la cosa di autistico Quando vai in campeggio Fa sempre comodo Saper fare un nodo Mettila come ti pare Va bene Se mai mi servirà Quando devi legare Il tuo cavallo Prima di entrare nel saloon Non va che ti scappa Giacomo Bellissima domanda Vi piacerebbe fare Una chiacchierata Con un serial killer Se sei chi? Allora Finchè non morisse È donato bilancia Perché era l'unico Che effettivamente Era abbordabile Per farsi una chiacchiera Altrimenti Beh c'era Ed Kemper Che aveva un passato Intellettivo Allucinante Quindi penso che sia stata Sarebbe stata Una conversazione Molto interessante Però in realtà Anche un Ted Bundy Anche un Ted Bundy Perché era talmente Tanto malato E privo di empatia Che Ci avrei conversato Più che altro Per scopi didattici Cioè nel senso Per cercare di capire Che cazzo gli diceva al cervello Com'era possibile Che una persona Ragionasse in una maniera Del genere Ok Cioè non per Fascino Per stima O peraltro Assolutamente no Era un uomo De merda Però ci avrei fatto Una chiacchierata Per curiosità Però penso che Con Ed Kemper Ci saresti anche Potuto divertire A fare una chiacchierata Perché effettivamente Era una persona Molto intelligente Quindi No io penso Quasi tutti italiani Donato Bilancia Forse Roberto Succo E forse anche Milena Quaglini Fate una chiacchierata Con Cicatillo Parla c'è russo No Cicatillo Guarda Proprio non è che C'ho tutto questo Grande interesse Elisa Elisa ci chiede Avete visto i documentari Sui serial killer Di Netflix Cosa ne pensate Ma soprattutto Avete sorelle bone Allora Sulle sorelle bone Io ho una sorella E si ferma Io ho una sorella È una bella ragazza È una bella ragazza Io Io Avevo 17 sorelle Tutte morte In circostanze misteriose Sono figlio unico Riguardo i documentari Di Netflix Mario Ho già vi anticipato Prima che sono ebreo E quindi Ho disdetto L'abbonamento Perché non mi va Di pagarlo Quindi non ho Netflix E non li ho visti Purtroppo non posso Rispondere a questa domanda Però posso improvvisare Una domanda Sì guarda Mi è piaciuto moltissimo Quel documentario Là su quel tizio Quello alto Giapponese Asiatico Rosso Rumeno Allora Io in realtà Visto che non sono Così ebreo Come Stefano Di documentari Su Easy Death Killer Ne ho visti a Yose Su Netflix E anzi Quando escono Mi piace molto Vederli Ha risato a buffo Così Va bene Allora E tra l'altro Ve ne consiglio Un pochino Making a Murderer A Murderer A Murderer Che praticamente È un processo Su queste due persone Che sono state accusate Di aver ucciso Altre persone E il processo È ancora Andante Quindi Ve lo consiglio Poi c'è quest'altro De confession killer Che è un altro documentario Su Netflix La quale io volevo farci Anche un episodio Perché è molto interessante Perché parlerebbe Praticamente Del serial killer Più prolifico Della storia Di tutti i serial killer O più prolisso Che parlava una cifra Che ne ha ammazzati Tipo 600 Uno che ho provato A guardare È lo squartatore Ma non c'è Non ci sono riuscito A finirlo Di vedere Poi ce n'era anche Un altro Perché è noioso Ma sì Allora perché lo consigli Perché sei un satico Di merda E vuole che la gente Sia noia Esatto Ce n'è anche un altro Che volevo consigliarvi Molto bello Molto bello Ma non lo trovo Quindi non mi ricordo Come si chiama Parla Forse l'avete già visto Parla di questa Inizia Con quest'uomo Che aveva questa bomba Messa come collare Come collare E che doveva seguire Un determinato tipo di istruzioni Per fare una rapina Alla banca Alla fine muore Con la testa sposa Oddio aspetta Ma ce l'ha consigliato Pure qualcuno Mi sembra su Instagram Io l'ho visto Tipo Che è una cosa Tipo so Ce l'ha scritto qualcuno Un nostro ascoltatore Cavolo Perché c'ho una memoria Di merda Ah poi The Keepers Bellissimo Ve lo consiglio E basta Vabbè Insomma La casa di carta La casa di carta No perché nel frattempo Sta scorrendo su Netflix Quindi sto vedendo Tutta la roba Che Gli esce a lui C'è anche il caso Bandi Insomma Ce ne stanno Ce ne stanno tanti Ce ne stanno tanti Ve li consiglio E poi Niente C'è l'ultima domanda Di Thomas Temete o bramate Il momento in cui Le vostre voci Saranno così famose Che verrete riconosciuti Al lavoro Allora sinceramente Io mi sono rotto le scatole Voglio fare coming out E c'è un po' Una lotta interna A questo A questa cosa Nel senso Giustamente Abbiamo delle posizioni Un po' diverse Io sono più propenso Per uscire un po' più fuori E Stefano Per rimanere un po' più attento Visto che tra l'altro Sta anche per perdere il lavoro Ultimamente Però diciamo Abbiamo raggiunto Una sorta di equilibrio Da questo punto di vista Attraverso Twitch E infatti qua Ci sta benissimo La goal to action finale Perché ragazzi Questa settimana Noi ci siamo già fatti Il profilo su Twitch Lo dobbiamo finire di fare Dobbiamo capire come funziona Di studiare Perché è una piattaforma nuova Ovviamente Non ci capiamo Una mazza ancora Esatto Però questa settimana Faremo un breve video di prova Lo comunicheremo Lo comunicheremo su Instagram O sul nostro canale Telegram Quindi se volete partecipare A questo Sarà veramente Un mini video di prova Di cui diremo Quattro cazzate in croce Senza prepararci niente Solo per fare un test E poi l'idea sarebbe Partire con Twitch Dove ci facciamo Proprio vedere in faccia Ovviamente soltanto Per i seguaci Non so come funziona Nemmeno su Twitch Perché Vabbè insomma Faremo delle dirette Su Twitch E l'idea sarebbe Partire con Che pupazzo succede Esatto Quindi spostare il podcast Di che pupazzo succede Che rimarrà comunque In podcast Però faremo la diretta Su Twitch E poi l'audio Lo metteremo In podcast Però da lì Poi verremo Un attimo Come si evolve Si potrebbero sviluppare A capire Duemila cose Insomma Quindi se avete intenzione Di vedere due stronzi pelati Che parlano Iscrivetevi su Twitch E ok Siamo arrivati Alla fine di questo episodio Molto carino Molto interessante Speriamo in domande Molto più stupite Invece avete fatto Delle domande intelligenti Speriamo di aver risposto In modo altrettanto No In modo estremamente stupido E vi ricordiamo Appunto Questa cosa di Twitch Ma è ancora Insomma In divenire Quindi sicuramente Vi aggiorneremo Attraverso Il canale Telegram Dove potete iscrivervi Anche senza essere sostenitori O il gruppo Telegram Iscrivendovi Diventando Produttori esecutivi Attraverso Patreon.com Slash Il link in descrizione Inutile Ogni volta Lo ripeti Pupazzi a legare E poi Vi ricordiamo Cervelli su tela L'episodio con Chiara Becchi Manzi E Giorgia Conte Duca Ciascuno è il suo Il loro podcast Dove parlano Della vulva E ci abbiamo fatto Un bellissimo puntata Pupazzi di sesso Pupazzi di sesso Detto questo Poi ci sono i vari canali Instagram eccetera E lasciate una recensione Su Apple Podcast Per far crescere Questo podcast Ma non ce ne abbiamo Delle nuove recensioni Non ce ne abbiamo Abbiamo delle 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 stelline Abbiamo delle nuove stelline Ma nessuna recensione Scritta No infatti Cioè è da febbraio Che su questo podcast Nessuno ci recensione Cioè No no non è vero Abbiamo Ha ricevuto Altre due recensioni Ma non l'hanno scritta E quindi probabilmente Erano un po' timidini Però non siete timidi E iscriveteci E fateci sapere Che cosa ne pensate Noi vi salutiamo E questo era Lo special Di Pupazzi Dalle gare E quindi ci vediamo Al prossimo episodio E comunque su Vabbè Abbiamo già detto Stavo per ripartere Le stesse cose Ciao Arrivederci E Grazie a tutti.